Benedetto è stato l'intervento di pulizia generale del canale consortile alla frazione Torello lo scorso 2 settembre voluto fortemente dal sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara altrimenti la giornata di ieri sarebbe potuta diventare una pagina triste e tragica per la comunità san giorgese la fortissima pioggia venuta giù in poche ore ha causato danni ma l'intervento effettuato il 2 settembre con i lavori di manutenzione ordinaria del canale pedemontano di Torello e quello di Pietra Perciata hanno scongiurato il peggio interventi che rientrano in una programmazione già stabilita tra comune e consorzio di bonifica col preciso obiettivo di mitigare proprio il rischio idrogeologico i problemi e i disagi però ci sono stati acquiti dai recenti incendi che ormai hanno spogliato le zone alte della città e quindi nessun freno c'è per le colate che rischiano di venire giù in occasione di ogni pioggia al lavoro costante degli addetti del comune si è venuto quello della polizia municipale agli ordini del maggiore giuseppe contaldi e i volontari della protezione civile guidati da alessandro attanasio la situazione più grave alla frazione corte domini dove 29 famiglie sono state allertate per una possibile evacuazione nel caso ci fossero state nuove criticità durante la notte allestito tra l'altro il centro di accoglienza presso la scuola di lanzara nessun cittadino però delle famiglie avvisate ha lasciato la propria abitazione il sindaco aveva emesso in via precauzionale l'ordinanza stamane sono proseguiti i lavori di pulizia con l'intervento degli addetti della regione campania con l'ausilio dei volontari della protezione civile anche di rocca piemonte dei vigili del fuoco dieboli e delle caserme del territorio allagamenti si sono verificati anche alle frazioni di santa croce fimiani e santa maria a favore il sindaco lanzara ieri ha chiesto ai cittadini anche di evitare di frequentare i piani terra delle abitazioni e i piani interrati scuole chiuse oggi ovviamente ma ciò è stato deciso da tutti i sindaci del territorio per evitare disagi a siano invece ieri chiusa la strada provinciale siano sarno a causa di uno smottamento elemento franoso che ha destato non poche preoccupazioni il sindaco marchese per maltempo aveva disposto la chiusura del cimitero la sospensione del mercato settimanale domenicale appunto nella giornata di ieri a rocca piemonte chiusa per permettere la pulizia della carreggiata da parte della protezione civile il corso mario pagano quello che congiunge il centro cittadino con l'intersezione che porta a castel san giorgio e mercato san severino il flusso di detriti e fango venuto giù dalle zone collinarie pedemontane per fortuna non ha causato molti danni ma si è reso necessario l'intervento di pulizia straordinaria il sindaco pagano ha seguito costantemente l'evolversi della situazione per tutta la giornata in giro insieme all'assessore alla protezione civile fabbricatore i volontari hanno spostato dalle strade alcuni rami di alberi caduti che potevano causare danni aperti i tombini in via savasta transennate le strade non percorribili anche in questa città fondamentale per evitare danni peggiori è stato il recente lavoro di pulizia delle caditoie e il controllo di canali e delle zone collinari incessante il lavoro della protezione civile tutto il territorio è stato perlustrato anche dai carabinieri della compagnia di mercato san severino agli ordini del tenente colonnello cisternino e dai militari della stazione dipendenti grazie 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 a tutti.